buongiorno a tutti voi inizia la settimana con un quadro tecnico ancora abbastanza contrastato e non troppo positivo sulle principali borse internazionali qui come vedete sullo schermo ci sono le contrattazioni del dax future che continua a non trovare una sua quadra se non risalendo dopo momenti di forte debolezza come abbiamo visto anche a metà giornata di venerdì attorno alla zona direi cruciale di 11.340 l'impressione è quella che abbiamo avuto già dalle scorse sedute e cioè che la l'incertezza geopolitica brexit italia trump questione d'azi forza del dollaro nonostante che il dollaro stia cominciando a evidenziare una perdita di spinta piuttosto palese sono tutti i fattori che tengono un po sotto pressione il mercato azionario che si avvia verso la fine di quest'anno cominciando a inanellare settimana dopo settimana vari profit warning da parte dei comandanti delle aziende a parte gli amministratori delegati che ovviamente capiscono che il ciclo economico non può essere rialzista in eterno e di conseguenza si tengono abbottonati anche con qualche acquisto di azioni proprie non ci sono rilevanti dati macroeconomici previsti per questa settimana e per la seduta odierna chiacchierano un po di esponenti di fede eccetera eccetera per cui concentriamoci sui livelli tecnici livelli tecnici sono che il dax se non passa la zona di volumi questa di 11 4 e 10 qui c'è proprio un fibonacci ma c'è una zona di volumi c'è proprio del prezzo di apertura di venerdì siamo intorno alla chiusura di giovedì ci sono qui c'è una compressione anomala di volatilità soprattutto sulle chiusure perché poi chiaramente questo è proprio il classico caso vedete questo è il rumore senza direzionalità perché oggi è lunedì 19 noi abbiamo cominciato il lunedì a 11 339 abbiamo chiuso venerdì a 11 350 cioè praticamente la settimana ha avuto un'oscillazione fra 11 5 62 e 11 222 quindi sono 340 punti quindi a fronte di un oscillazione del 3 per cento la performance della settimana è nulla questo è un rumore puro brutale ciò sta a significare che se vogliamo pensare anche osservando questo grafico di trovare dei livelli interessanti per fare dello shopping bisogna andare a cercare alla rottura dei minimi di oggi in area 11.200 quindi non ci sono santi che tengono mentre prolungando questa trend line al superamento di 4 e 15 circa 4 e 20 si incontra sul pivot 2 1 di resistenza la media mobile a 451 sull'orario la 200 punti 486 494 5 e 50 preceduto da un 5 25 5 35 questo livelli dax per euro stocks che oggi sulle banche grazie a dio non patisce molto patisce per un'america un po debole sui future notturni qualche cosa attenzione perché quella configurazione grafica non è assolutamente bella è questo chiariamoci qui ci sono 123 questi sono rounding top è vero che il top significa essere sull'alto mentre qui non siamo sull'alto ma è anche altrettanto vero che la configurazione non mi piace per niente è che qui c'è una rottura di una trend line con un pullback rotta si riesce rotta quindi o oggi sull'aerostox torniamo sopra 3.200 e si va a cercare una chiusura entro domani a 3.220 oppure qui soprattutto sull'aerostox che mi chiama molto italia va messa in conto e quindi vanno posizionati degli allarmi ben al di sotto dei minimi settimanali ma si torna a cercare area dei minimi di fine ottobre di 3.130 questi sono livelli importanti perché perché come 11.2 per il dax andiamola a vedere qui sopra nei nostri segnali è area di target 3 3.130 è area di eccesso di ribasso ma bisogna assolutamente non solo invalidare queste aree la 11.4 e oggi siamo già al di sotto per esempio per il dax siamo 11.3 e 45 ma bisogna soprattutto per eurostox andare ben al di sopra ora siamo a 3.177 3.190 3.200 quindi molto molto chiaro 11.450 dax 3.200 di eurostox torniamo a guardare l'azionario mondiale l'america bisogna assolutamente che pur non essendo assolutamente accio questo rimbalzo anzi l'avesse fatto l'europa questo rimbalzo a riprova che il problema italia ce l'abbiamo tutto caricato dentro avesse fatto l'europa questo rimbalzo l'america che non ha una struttura grafica bellissima non deve scendere sotto 2720 dove incontrerebbe di nuovo una zona frattale abbandonerebbe questa importante zona di volume se invece io nonostante tutto a guardare le sp500 uno strappettino insomma lo aspetterei si passa chiusura odierna 2007 40 allora possono aumentare le probabilità secondo me decorose di andare a cercare un 7.51 7.57 ma questa è una resistenza forte la si può cercare ma all'interno di un rimbalzo questo è un livello di tappo non da poco quindi 7.50 7.57 è un livello di tappo estensione 7.63 un po' delicatino il nasdaq stamattina ma non ancora del tutto da buttar via qui vedete che mentre l'europa ha aperto in debolezza questi sono piantati fermi rispetto alle chiusure di venerdì che sono state alte quasi alle 6 e 9 però vedete proprio qui c'è sostanziale stabilità su attestare gli indicatori ma nonostante che le posizioni non siano belle perché qui vedete c'è un incrocio di macd con ricostruzione in aree poi un gomitino poi giù quindi la posizione del nasdaq è bruttina più che altro perché anche in questo caso una settimana assurda cioè con c'è pochissimo rumore cioè scusatemi assolutamente pochissima direzione proprio non c'è non se ne esce non se ne esce non se ne esce quindi sotto questo aspetto anche per quanto riguarda il tecnologico qui si richiede di andare al di sopra delle chiusure e dei massimi della settimana altrimenti e bisogna posizionare per forza gli allarmi sotto perché in termini settimanali questo è il quadro tecnico quindi 6 e 7 per nasdaq supportone qui già diverso 2 6 e 92 e questi minimi 6 80 per sp 500 sguardo sul dow jones il meno peggio nonostante la forza del dollaro ma probabilmente la debolezza del dollaro un po lo sta aiutando ma qui c'è dei megafoni qui c'è dei megafoni per cui fate attenzione qui sotto e che qui la faccenda sotto 25 mila 240 livello già segnalato più volte le dura non non torna molto sotto questo aspetto quindi direi di stare prudenti perché questa compressione di volatilità nonostante una settimana che non presenta appuntamenti macro particolarmente rilevanti qui c'è un po da stare attenti la posizione dell'indicatore anche di mac d è un taglio sull'orario questa compressione di volatilità è vero che da un lato siamo un po vicini all'alto quindi c'è più spazio cioè a rompere le resistenze che a cercare supporti dall'altro lato proprio questo può non aiutare perché anche guardando i segnali la dinamica di come i prezzi si incrociano fra di loro dice invece un'altra cosa ovvero vedete nasdaq long 923 tappo a 924 751 751 dow jones 537 530 vedete che sono tutti tappati sull'alto invece a scendere 736 722 c'è spazio 880 342 c'è spazio 382 40 il nuovo c'è spazio l'america non bella graficamente da vedere l'europa un po venduta ma soprattutto ancora incapace di vivere comunità propria morale la quadra calma ancora calma e gesso oggi btp carino bund bruttino forse oggi l'italia potrebbe essere quella che aiuta l'europa sull'italia direi che i livelli sono comunque di superare assolutamente 18 940 qui c'è un livello proprio molto molto forte dopodiché si va a 9 90 dopodiché si va a 19 0 30 19 0 70 e il livello chiave è comunque della settimana 19 140 finché stiamo sotto il 19 140 non torna anche l'italia ha avuto i suoi rounding top il canale questo 18 6 e 50 primo approdo per oggi e un eccesso di vendite potrebbe trovare un buon allarme io ce l'ho pianto a 18 5 40 circo è un'area del 2 del pivot 2 di livello quindi situazione delle borse ancora relativamente di debolezza laterale presumibile ritorno di una certa volatilità forza di dollaro in contrazione su euro faccio vedere qui attenzione che sul dollaro inglese siamo sul bordo di un canale la rottura di 96 e 22 cioè dei minimi recenti può essere interessante attenzione subito all'area 96 e poi attenzione anche all'area della media mobile a 95 quindi sotto 96 che può essere un livello aggredibile il dollaro non muove molto sinceramente dobbiamo stare attenti perché potremmo incrociare dei supporti qui andiamo a vedere sulle cose secondarie sterlina ancora debole ma forse un imbalzo ci sta per debolezza di dollaro cad vediamo c'è debolezza quindi attenzione forse sul petrolio qualcosa perché qui c'è qualcosa che non torna cad che sta un po perdendo sul dollaro invece petrolio e rame che si stanno irrobustendo cioè devo guardare la situazione di questi cambi più forte la strada rispetto a nuova zelanda debolezza sui titoli di stato e chiaramente uno sguardo carpiato anche all'oro dove dopo un nuovo attacco forte a 220 l'oro ancora comunque vedete che fa una certa fatica anche qui una considerazione potente di massimi arrotondati e pertanto sviluppiamo con attenzione questo pattern perché qui c'è sette resistenze ci sono c'è niente da fare questo è il livello chiave 230 questo livello chiave 230 è tantissima roba già vedete anche di volumi in basso chiarissimo il canale dove si lavora la sua mediana è questa area supporto 208 per quanto riguarda l'oro bisogna stare al di sopra di 229 e aggredire il più possibile e prima possibile queste aree di massimo 223 225 minimo della settimana 208 assolutamente da tenere area di eccesso per oggi per quanto riguarda l'oro questo è il mio la mia visione del mercato vediamo adesso un po di nuovo qualche cosa vedete il dax sta provando un po riprendere sono le ore 8 e 38 vediamo come ha girato questa questa prima parte di seduta sempre che la piattaforma non ci abbandoni ogni tanto si pia ecco vedete ecco carino questo recupero da un lato lo spread e bund e btp ci dava qualche informazione qui siamo sempre al solito bisogna assolutamente lasciare il livello di 11 e 4 per oggi è tutto buona giornata e buon trading a tutti